...fascia tirrenica, ancora una lotta colpita in particolare con Lazio e Campania, come è successo anche nelle ultime settimane. Per quanto riguarda le precipitazioni, dunque oggi Toscana, Friuli, vedete anche Lazio, Campania e Sardegna, domani intensificazione perché il blu diventa più scuro, anche Fucsia sul Friuli di Arezza Giulia e venerdì ancora precipitazioni abbondanti sulla fascia tirrenica e sul nord-est, anche isole maggiori e poi stabili, tenderà a migliorare con l'inizio di ottobre. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo prossimo evento a tutti da, come sapete, sull'app del meteo. Questa Inghilterra... The Singlet, nuova serie, dal 30 settembre in esclusiva, su Sky, guardala, prova Sky Q a 9 euro senza vincoli, chiamaci, 0-2-80-80, vieni su sky.it o nei negozi Sky. È il tuo momento, con la moda, su Zalato. E continuare a creare any live station, puoi farsi anche rinforimento. Che cavolo è questo? Questo è un bisogno, assolutamente d'accordo. Questo che cosa? Questo sta succedendo davvero. Grazie, 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 grazie.